ecco eccolo qua non siamo a gardaland non siamo a disneyland non siamo a legoland ma siamo a energilandia mamma che paura quando la macchina fa la differenza non siamo a disneyland non siamo a fantasi land fantasia land non siamo ad aqua land non siamo nemmeno a gardaland ma siamo a energilandia siamo a energilandia attenzione no ho sbagliato dov'è eccolo lì ah bello i sacchi c'è già troppo gente qua the king the unicycle non voleva il 5 o cosa voleva? il 5 no? potremmi dargli il 5 non lo hai penso che mi saltano con tanto Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Cioè alle 10 del mattino andare già qua non è che sia bellissimo Andiamo a questo e poi andiamo al Toffifi Smielchi Energy Guarda lì, guarda lì che c'è sale, nooo, paurissima, io là non ci vado No, io voglio andare lì, primo sedile Primo sedile, mamma mia, guarda, guarda, guarda Guarda, guarda, oleee E poi gira ancora Fantastico Io vado in questo qui, Toffifi, easy peasy Perché c'è scritto devi mettere la mascherina? Dietro di noi nessuno, siamo gli unici qui a fare la coda per Toffifi Siamo gli unici, non c'è nessun altro Ecco, io inizio da questa qua Piccolina, easy peasy Toffifi Vabbè dai Sondi Velocità impressionante In un turbiloquio di Spirali, salite, discese Appena fatto, purtroppo non l'ho potuto filmare L'immortecci sua che botta Signore, io vorrei sapere come è stata la vostra prima impressione di questa giostra È bellissima Facciamo una seconda volta L'immortecci che botta Fantastico Questo non mi becca Grazie Lavatissimo Tremenda Ascensore Barca Che taccata punta Sceso Pagno Proprio Scuso Il nostroع bessere Qu prime Fa E Ini Scuso Di Scuso Ma ecco una rilassante e via barca salita bellissimo questo non solo gira il braccio ma gira anche il perno dove sei seduto questo è proprio questo è proprio da paura non da paura ma vomitevole proprio mamma mia che roba Anaconda l'abbiamo fatta Anaconda già fatta Monster House già fatta baby adesso andiamo in questo che si chiama Madras ma quando finisce? da dove inizia? dall'entrata Mayan ok ecco c'è ancora il drago questo qui semplice easy peasy bellissimo e poi c'è l'altra ancora questa qua quella là l'abbiamo fatta fantastico qua c'è il drago che va a pedale no devi anche pedalare no grazie ok ecco e c'è ancora questa che dopo l'altra mi sembra che il vomito viene in automatico ecco ci siamo ci siamo ancora questa dobbiamo andare su questa qua questa ci hai fatta in legno come fa? si diciamo che non è dritta come la prima ma vai andiamo io e te perché? non con la mami non è che ci incontriamo Forkwood c'è anche Merlino un wonderland provo un po' se viene fuori niente da fare si è incollata metà metà incollata metà se c'è l'altra metà poi è dall'India che pezzo c'è il teatro andiamo al teatro cosa abbiamo? la pizzeria Napoli come si può chiamare una pizzeria? Napoli no possono mettere anche qualsiasi nome pizzeriano Firenze pizzeria Firenze pizzeria Firenze senti che profumino Frida che cos'è questo Frida? andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere bellezze di Polonia bellezze di Polonia madra questa è la nostra prossima tappa l'ultima giostra vabbè Formula 1 fantastico anche quello lì eccola qui è Energilandia e beh vuoi metterti anche tu Leo? no andiamo su questo questo mi sembra molto simpatico la giostra dei cavalli era meglio quella laia eh è diverso guarda il tigro andiamo su quella giostra questa questa quella che c'è lì ma perché? è quella non mi piace quella non mi basta non mi piace quella non mi basta c'è anche quella dei cavalli andiamo su quella dei cavalli l'aereo quello che manca a questo carosello è la musica c'è anche quello lì c'è anche quello lì non è tanto bello anche quella quel faraone che gira e questo chi è? ma dai ma guarda adesso mi eccolo qui l'aereo vai let's go no questo mi piace questo mi piace eccolo che arriva guarda che allegro abbiamo chiesto quanto durava il giro non abbiamo avuto nessuna risposta nessuna risposta solo vai vai e shut up guarda che bello no eppilups ci vai tu tups guarda che bello l'ho vinto molto no io nemmeno non ci vado lì quelli lì sono orribili niente fanno girare il vomito guarda che bel giro se cade lì non so cosa dire mamma mia stai un po' di là ma dove si sono nata che vedo che pende un po' di qua super pompa guarda ci poteva portare direttamente dal ristorante mamma mia che paura se cadi però cadi igienizzato ma l'ho vanno ma l'ho vanno mamma mia non è che dal giro questa faremo è quello di qua non è che siamo troppo pesanti sì to fifi l'abbiamo fatto questa non l'abbiamo fatta dai lo diamo no 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 lo faccio no 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 leo vedi con me quello lì mi dà già di no 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 questo vai vai a farlo non sei venuta a fare quello lì dei guerrieri e allora vai ecco vai con gingolin bello un ristorantino ecco che stiamo arrivando oh quanto dura il giro ma vai avanti quanto vuoi che duri due giorni tre minuti sei arrivato che sei tristi le faccine di queste aeree sono tristi abbiamo understood we did guarda guarda forza in linea ragazzi e vai e vai ecco che una volta siamo andati a Kent a mandare a piccoli 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 ecco la fila che c'è tremenda questo è al top questo e Zadra sono al top poi non si ferma arriva e scende giù direttamente e ciao e raggi smelzelchi e sai dove giri raccine alzate eccolo lì fantastico raccine abbassate part of the movie everybody part of the family eccola qui fiori della polonia fiori della polonia grazie a tutti 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 grazie a tutti